carissimi amici di padre pio tv e voi tutti che ci seguite sui vari social giunga tutti voi l'augurio di una santa pasqua da parte dei frati minori cappuccini della provincia di sant'angelo e padre pio in questi giorni la liturgia ci ha fatto rivivere il mistero della passione morte e risurrezioni di gesù come abbiamo cantato nella veglia pasquale morte e vita si sono affrontate la pasqua e la vittoria della vita spesso nella nostra vita viviamo questa battaglia spesso anche noi dobbiamo affrontare la luce e le tenebre a volte può capitare che le tenebre sembrano prendere il sopravvento può capitare che le sofferenze le difficoltà che viviamo ci facciano dimenticare la vittoria della luce la pasqua vuole ricordarci proprio questo che cristo ha vinto che la luce ha vinto che il nostro cammino è un cammino incontro alla luce quindi da parte dei frati voglio augurare a voi di vivere sempre questa esperienza in qualsiasi situazione viviamo qualsiasi difficoltà stiamo affrontando ricordiamoci che stiamo camminando incontro alla luce la luce del cristo risorto auguri a tutti voi